4. A cosa serve la riclassificazione del bilancio? Prepariamoci per affrontare l'orale. Domanda. A cosa serve la riclassificazione del bilancio? Senza la riclassificazione non sarebbe possibile calcolare molti indici di bilancio, pertanto la rielaborazione del bilancio serve per poter avere i dati e le grandezze necessarie riclassificate, per poter poi calcolare gli indici di bilancio. Nota bene, vi sono tuttavia alcuni indici di bilancio che è possibile calcolare anche senza aver effettuato la rielaborazione. Vediamo nel dettaglio alcuni tra i più importanti. Il leverage e il ROE sono due indici ad esempio che si possono ottenere senza effettuare la rielaborazione dello stato patrimoniale e del conto economico, in quanto gli importi delle grandezze che compongono le formule sono facilmente individuabili dagli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico. Infatti il leverage è dato dal rapporto tra il totale impieghi fratto il capitale proprio, mentre il ROE è ottenuto dal rapporto tra l'utile d'esercizio e il capitale proprio moltiplicato per cento.